La cena dei capletta è la cena che ormai tradizionalmente come Associazione Bene Comune teniamo alla fine di ogni anno solare, prima delle festività natalizie, per farci gli auguri di Buon Natale, riassumere un po' l'attività svolta durante l'anno e annunciare quelli che saranno gli impegni dell'anno veniente. Il prossimo anno sarà l'anno delle elezioni amministrative nella città e quindi certamente questo è stato il tema che ha occupato la serata dove abbiamo confermato il nostro impegno a sostenere la candidatura a sindaco della città di Fana che sarà espressa dalla lista del Movimento 5 Stelle. Insieme a noi abbiamo avuto anche i giornalisti della stampa locale con i quali abbiamo dialogato, abbiamo anche trattato dei vari aspetti del programma che sarà proposto la città.